Pronto per morire? Mamma! Cosa ho fatto per meditare di questo? Ma che? Potremmo che controlliamo anche di là! Il bimbi non hai tranquillo? Saluta! Sei pronto? Ok! Ci mette 40 anni ad andare su, però... Fa tutti i video su Facebook? Si, dopo! Ovvio che saranno su Facebook o su Youtube! Uno dei due, dopo posterò il link! Panorama? Siamo anche come le Magic Mountain, come Raptor o come Catoo! Sono uguale! Cosa? Catoo forse! Catoo? Perché siamo arrivati! Tre, due, due, dieci... Vieni! E' fuori! E' fuori! E' fuori! E' fuori! E' fuori! Guarda che lo si scarica e corre! sta già scendendo sta frenando è un buon rumore la macchina di tornare è tutto lo chiamo